Mi chiamo Alessandro, piga e vengo dalla Sardegna. Ho sofferto da bambino e ho avuto un cattivo rapporto con tutti i dentisti della mia vita. Perché non ho potuto risolvere in Italia? Un po' per trascuratezza, un po' perché i tempi in Italia sono molto lunghi come tempistiche, anche per fare impianti, per fare analisi, ci vuole tantissimo tempo. Oltre che anche nei prezzi, sono spesso esagerati. Ho visto un reportage sulla RAI, mi pare, sulla vostra clinica, e allora ho scelto di venire in Albania. Ho fatto due impianti, un'estrazione, pulizia dei denti, poi ho fatto un'attacca, poi ho fatto una panoramica. Insomma, ho cominciato il lavoro e dovrò terminarlo qui in là. Lo staff medico mi ha sembrato molto professionale, quindi che collaborano insieme, che ti fanno sentire, insomma, a tuo agio. Ho dovuto avere speso almeno metà di come poterlo spendere in Italia, anche perché ho scelto dei prodotti ottimi. Ho dato una buona accoglienza in questa clinica, l'ospitalità, la gentilezza, il tempo che è stato dedicato a me nel seguirmi e nell'indicarmi anche le cose. La clinica l'ho trovata professionale, pulita e attenti al paziente. La ringraziamo per il tempo che c'è gentilmente dedicato e per aver scelto Viaggiare e Sorridere. Grazie a voi, speriamo di sorridere sempre. Grazie a voi, speriamo di sorridere sempre.